Hai mai provato ad assemblare qualcosa? Senza martello? Senza chiodi? Senza viti e rivetti? Prova ad immaginare un oggetto assemblato senza l'uso di viti, rivetti e saldature, utilizzando solo i nastri 3M VHB e i sistemi ripudibili 3M Dual Lock. Dai, immagina! Hai fatto? Bravo! Allora sei pronto per accettare la sfida di 3M. Partecipa al concorso. Come? Molto semplice. Crea il tuo progetto, registrati sul sito e caricalo. Una giuria valuterà il possibile utilizzo nel mercato reale, la creatività e il grado di innovazione e funzionalità. Allora, accetti la sfida! Eh, ragazzi, va bene l'entusiasmo, però poi gli oggetti si devono poter usare.